E' partito col botto il nuovo programma di tra i due intitolato Reality condotto da Enrico Lucci un programma che va a dare voce a personaggi che appartengono al mondo del web e idealmente dico che mi piacerebbe essere intervistato da Enrico Lucci o dalla sua, chiamiamola, ciurma e avrebbe suscitato non poca polemica ciò che un personaggio avrebbe detto a proposito di Falcone e Borsellino questo cantante neomerodico di cui non intendo offrire né nome né cognome in particolare avrebbe diciamo così detto determinate frasi che non sarebbero proprio delle più edulcorate, delle più dolci, delle più gentili Lucci però ha voluto dare la sua versione dei fatti e avrebbe detto non abbiamo invitato Rina o Provenzano in studio abbiamo invitato un ragazzetto che fa il cantante neomerodico e ha degli idoli orribili perché il programma si occupa di fenomeni sul web e poi è stato mandato a un servizio in cui è stato raccontato il fenomeno con tutte le sbavature tra cui anche un riferimento a ideali di tipo malavidoso quindi di mafia tra i due cantanti che sono apparsi nel servizio è arrivato anche questo ragazzo di 19enne e in qualche maniera queste frasi che avrebbe pronunciato non sarebbero state diciamo così viste bene perché avrebbero suscitato ripeto una certa polemica, un'accesa polemica detto ciò vi ringrazio per l'ascolto andatevi a vedere poi o meglio ad ascoltare le esatte parole che il ragazzetto di 19enne avrebbe pronunciato io non ripeto per ovvie motivazioni per rispetto per la travese altrui ed anche perché secondo me qualcuno di Bolsellino devono avere e ricevere il rispetto che effettivamente appunto devono possedere detto ciò ancora grazie a voi iscrivetevi se vi va, commentate al prossimo video da narratore italiano di Youtube Italia un saluto a voi